musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi buongiorno buongiorno come tutti i giorni come ogni mattina le novità e le notizie su Fortnite le trovate in questo canale oggi ragazzi voglio parlare con voi di uno degli eventi che tutti stanno aspettando subito dopo l'arrivo fra pochissime ore della season numero 6 sto parlando ragazzi dell'evento di Halloween quello che Epic Games chiama il Four Nightmares che vorrebbe dire è una combinazione tra Fortnite e Nightmare che vuol dire incubo l'evento di Halloween della scorsa stagione dello scorso anno è stato veramente interessantissimo e per questo ragazzi Epic Games vuole riproporsi e dichiara di voler fare un evento allucinante mastodontico una cosa che ricorderemo tutti noi giocatori di Fortnite quindi ragazzi andiamo subito subito con il primo con la prima cosa di cui vi voglio parlare ovviamente ragazzi è una cosa incredibile arriva direttamente da Ninja uno dei pochissimi ragazzi che riesce a contattare e a parlare con il team di Epic Games durante uno streaming Ninja dice queste testuali parole they gave me some interesting little hint and stuff and they show me some cool and upcoming things vuol dire loro mi hanno fatto vedere loro inteso come il team di Epic Games mi hanno fatto vedere un sacco di roba bellissima e interessante che arriverà nell'evento di Halloween ovviamente e aggiunge anche che lui è molto gasato per questo evento quindi ragazzi sappiamo che ci saranno cose veramente fighissime per rendere ragazzi l'evento di Halloween ancora più incredibile è ovviamente ragazzi lecito aspettarsi l'arrivo di nuove skin abbiamo tutti in mente due delle skin più belle di Fortnite che sono ovviamente lo scheletro quindi la Skull Trooper e la Goal Trooper ma ragazzi mi viene in mente una cosa vi parlo delle skin perché voglio ricordare qualche giorno fa le due skin assurde che sono uscite su Fortnite sto parlando ovviamente delle skin dei pagliacci il Notte Notte e il Bubusettete secondo voi ragazzi è veramente un caso che queste skin che ovviamente non sono pagliacci simpatici o comunque amichevoli come vedete hanno la controparte cattiva, malvagia secondo voi ragazzi è un caso che queste skin siano state proposte nello shop così vicine ad ottobre e così vicine ad Halloween comunque non c'entrando nulla di nulla con la storia della season secondo me no ragazzi secondo me no e secondo me queste skin potranno essere utilizzate per modificarne i costumi che secondo me arriveranno durante l'evento di Halloween dovrebbero arrivare un po' di stili personalizzabili secondo me i clown saranno una delle skin utilizzate appunto per vestire con i nuovi outfit ma mi viene anche in mente ragazzi che potrebbe esserci una skin dedicata al nostro Joe Wick io lo vedrei benissimo a tema di Dracula è vestito praticamente come un Dracula moderno ragazzi lo vedo davvero bene con una maschera un mantello rosso ci potrebbe stare e perché no potrebbe anche ragazzi arrivare secondo in America anche nei Simpson li abbiamo visti c'era il cavaliere senza testa quello a cavallo durante gli speciali di Halloween e potrebbe davvero arrivare anche una skin zucca che ovviamente è la una degli elementi fondamentali di Halloween ma andiamo avanti ragazzi parliamo di quando arriverà questo evento sui nostri, sui nostri console, sui nostri dispositivi abbiamo visto ragazzi che l'anno scorso non è durato proprio tantissimo otto giorni, una settimana credo una roba del genere so che è iniziato il 26 ottobre quest'anno ragazzi secondo me Halloween, l'evento di Halloween inizierà il 25 ottobre che è un giovedì e quindi ci potrebbe stare con il discorso dell'inserimento delle grandi patch quelle che fanno sempre il giovedì e secondo me ragazzi andrà avanti anche per due settimane quindi potrebbe tranquillamente ma finire verso il 17 indicativamente verso l'8 novembre indicativamente ci potrebbe stare come evento visto che deve essere appunto una cosa mastodontica ovviamente ragazzi come è successo anche per un altro evento speciale di Fortnite quello del compleanno potrebbero arrivare dei nuovi oggetti consumabili sparsi per la mappa di gioco ovviamente se si parla di Halloween a me vengono in mente le caramelle quelle che i bambini utilizzano per fare dolcetto scherzetto ci potrebbe stare ragazzi come sappiamo abbiamo i funghi su Fortnite che ci danno 5 di shield abbiamo le mele che ci danno 5 di salute e secondo me avrebbe assolutamente senso che le caramelle diano entrambi quindi più 5 di shield e più 5 di salute cosa che già succedeva se ve lo ricordate con i pezzi di torta qualche mese fa con il compleanno di Fortnite ci potrebbe anche stare ragazzi che si fa una specie di dolcetto scherzetto alle porte delle case quindi quando apri le porte potresti trovare o non trovare una mela una caramella ci potrebbe stare lo vedremo lo vedremo ragazzi ovviamente ragazzi andiamo avanti e quando si parla di Halloween su Fortnite ragazzi c'è una delle cose che tutti si riaspettano di vedere me compreso sto parlando ragazzi del lanciazucche una delle armi più fighe a parer mio di Fortnite anzi ragazzi ditemi qua nei commenti qual è secondo voi l'arma più bella che è mai stata posta su Fortnite scrivetemelo qua nei commenti lo voglio proprio sapere secondo me il lanciazucche rientra assolutamente forse è la più bella in assoluta per me perché se ve lo ricordate chi non l'ha mai provata mi dispiace spero la possiate provare il lanciazucche era una rivisitazione in stile Halloween dell'RPG solo che al posto dei Rocket c'era la testa illuminata di una zucca che una volta sparata al momento dell'impatto rilasciava un ghigno incredibile che ragazzi si sentiva a chilometri di distanza nella mappa ragazzi era fatto apposta era meraviglioso creava un'atmosfera tetra perché era tipo il ghigno tipo quello di una strega però molto più elettrico ci stava ci stava andate a vedere qualche cosa con il suono che vi faccia capire tra l'altro mi viene in mente ragazzi che il lanciazucche non ricordo se avesse le ricariche secondo me era un'arma rilasciata che aveva colpi infiniti quindi io ricordo che a un certo punto verso il penultimo cerchio della safe si cominciavano a sentire ah 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 quindi rumori dalla gente con il lanciazucche che spammava a profusione ci stava veramente un botto creava un'atmosfera meravigliosa o altrimenti ragazzi potremmo magari vedere una rivisitazione del lanciagranate come abbiamo visto per Pasqua il lanciauova potrebbe esserci un lanciazucche ad esempio staremo a vedere ragazzi andiamo ovviamente avanti e parliamo di un'altra di quelle cose che tutti vogliamo su Fortnite ragazzi ovviamente le sfide speciali che vengono proposte sempre per quello che riguarda i nuovi eventi o comunque gli eventi speciali della vita vera abbiamo tutti chiaro che Epic Games mette tre sfide e speriamo ovviamente faccia così anche in questa occasione sfide che potrebbero regalarci degli oggetti a tema Halloween da tenere per sempre nel nostro armadietto sto parlando di uno spray potrebbe arrivare un piccone magari un piccone zucca che non c'è che ci potrebbe stare una scia magari dedicata ad Halloween e sarebbe non dico che al completamento delle tre sfide ci regalino una skin però potrebbe tranquillamente essere che come hanno fatto per il compleanno al completamento delle tre sfide ci regalano un backpack quindi uno zaino che ci faccia ricordare Halloween potrebbe essere tranquillamente una zucca illuminata non ci vorrebbe un genio per farla quindi ragazzi super hype anche per queste challenge che dovrebbero assolutamente arrivare e per ultimo ragazzi una cosa che io vorrei tantissimo che arrivasse come hanno detto quelle di Epic Games che garantivano essere un evento memorabile che tutti i giocatori si ricorderanno per il futuro sarebbe veramente bellissimo che ci regalassero un ombrello dedicato ad Halloween dai Epic Games dai regalaci a tutti magari con una vittoria dentro il periodo della sfida di Halloween ci veniamo ricompensati con un ombrello sarebbe veramente fighissimo io spero davvero che ascoltino questo messaggio e che lo soddisfino beh ragazzi qua ci fermiamo io spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale noi ragazzi siamo in live oggi dalle nove e mezza e andremo avanti lunghissimi per questo arrivo della season 6 a presto ciao 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 Grazie a tutti.